Allora ragazzi, stamattina che cosa facciamo? Scompagniamo il 128, il 36 per cercare il minimo comune multiplo. Quanti siamo qua? Un 3. E come mai che abbiamo una roba con tanti numeri qua? E' la tavola numerica di matematica che serve per, se non ti ricordi un numero, per guardare i numeri primi. E come mai abbiamo una roba con la calcolatrice? E' perché ho qualche problema con le tabelline, però ho risolto tutto. Con cosa? Con la calcolatrice. Perché invece che ricordare le tabelline, cos'è che ricordi? Ricordo come si fa, cioè, il procedimento. Il procedimento, quindi il procedimento l'ha imparato, le tabelline ho messo da parte e la scomposizione adesso la sai fare? Sì. Allora, dai, comincia a farci vedere. Allora, il 128 e il 36. Cosa fai? Aspetti. 128 diviso 2 che risulta... Perché Gerzim fa 128 diviso 2? E' perché il 128 finisce con il numero pari, tutti i numeri che finiscono pari e sono divisibili per 2. Ok, adesso lui continua ancora perché finisce con il numero pari. E' ancora pari, che ne fa 16. E adesso con il 16? E' ancora pari. Ancora pari, quindi usa ancora? 2. Ancora 2. E' 8? Ancora pari, che ne fa 4. Ok. Ma tu li sai, criteri della divisibilità di numero? Però quelli là bassi, non quelli là alti, come 3.000 qualcosa. Beh, se è 3.000 è un pari. Eh sì, però ce la puoi fare anche dividere con le scorciatoie che ti... Ah, ma noi non facciamo scorciatoie. Adesso passiamo al... 36. Non vuoi fare tu, Gerzim? Sì. Dai, Gerzim fa il 36. Fai senza calcolatrice? Sì, sì. Scrivile. Scrivile. Scrivile per 2. Che le fa 18. 18 è ancora divisibile per 2. Che le fa 9. E 9 usi ancora 2? No, perché è dispari, quindi usiamo il 3. Ma perché è dispari o perché il 3? No, perché se fai 3 per 3, per 3... Ah, ok. Perché è un numero divisibile col 3. Eh sì. Vai, allora adesso... E fa 3. 3. E il 3 è un numero primo, 3 e 1. Adesso andiamo a fare la raccolta dei fattori. Sotto il 128 cosa metti? E 2 alla settima. Ecco. Perché 7 sono tutti... 2 alla settima. E 2 per 2 per 2. E qua cosa metti? E 2 alla seconda per 3 alla seconda. Per 3 alla seconda. Adesso qui sotto scriviamo... Qui sotto scriviamo minimo comune multiplo e il nostro Giuseppe ci dice che cosa è. Minimo comune multiplo è la somma... No, è il più piccolo... È il più piccolo numero per cui possiamo dividere... Il più piccolo numero... Il numero con cui possiamo dividere... No. È il più piccolo numero multiplo di tutti e due. Ah, il multiplo di tutti e due. Multiplo di tutti e due. Perché di multipli di 128 e di 36 mesi insieme ce ne sono tanti. Ma noi andiamo a cercare... Il multiplo più piccolo. Il multiplo più piccolo. E allora cosa prendiamo qua? Prendiamo il 2 per 3 e dopo guardiamo l'esponente più alto. Va bene. Allora, i fattori... Sono 2 per 3. I fattori che ci sono in queste due scomposizioni. Quindi c'è il 2 e c'è il 3. Del 2 siamo costretti a prendere il 7. E del 3 il 2. Quindi adesso il nostro Giuseppe, che è la calcolatrice, andrà a scoprire che è il numero... 384. 384. Ho visto che hai fatto tante volte 2, 2. Cos'era? 2? Perché è 2 per 7, cioè... No, per 7 fa 14. No, sì, aspetti. 2 per 2, per 2, per 2, fino a... Ok, scrivi il numero... 300 e 89. Facciamo un cerchio... No, basta. 389. Facciamo 84. Ah, perché questo è per 3. Alla seconda che fa? Tu lo sapevi che è di cos'è 3 alla seconda? Eh, 9. 9. Perché ne fai 3 per 3. Anche se vieni dal Cosovo, le sai bene parole italiane? Eh, più o meno. Hai imparato di più guardando come si fa o dalle parole? Eh, come si fa. Allora, ti aiuta? C'è la profe che li faceva e alle ovaglie io li guardavo e ho imparato. Allora, 384 per 9, quanto fa? 384 per 9, quale? Un numeraccio. Un numeraccio. Che però è multiplo sia del... 128 e del 36. E del 36. Facciamo un cerchio. Questo qui è multiplo di questo e di questo. Ci sta dentro a questo. Questo ci sta dentro a questo. E questo ci sta dentro a questo. Ma il più piccolo starci dentro assieme. Sì. Ok? Fine della video. Lezione. Lezione. Vi salutiamo dalla prima D. Dalla prima D. E speriamo che vi serva a ricordare come abbiamo fatto. Abbiamo scomposto il numero. Abbiamo fatto la raccolta. Abbiamo cercato i fattori comuni e non comuni col più grande esponente. Quindi abbiamo uno scomposto. Due. Raccolta. Ricerca. Tre. Ricerca del minimo comuni e non comuni. Comune multiplo. Con fattori comuni e non comuni col più grande esponente. Fine della video lezione.